Qual è la lezione principale? La dimostrazione e il vero messaggio è che la sticezza si alza sempre, piccola non può esistere in un mondo globalizzato. Il suo vero goal che ha fatto non è stato nell'unione di due tecnologie o comunque nel portare la tecnologia italiana in America. La sua è stata proprio una vittoria sulla leadership nel saper prendere un'azienda fallita ma con un marchio valido e renderla oggi una delle marche migliori che c'è sul mercato americano.